...potente, proteggeci sempre, oh Maria, non ci abbandonare, confiniamo nel tuo onore di mano. Ave, oh Maria. E la grazia del Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e vedete il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amica. O Maria, accoglimi sotto il tuo arco potente e proteggeci, invocato con questo titolo da oltre cinque secoli, tu spieghi averti solenne con l'affetto di madre, la potenza e l'anzi ricordia di Regina verso gli afflitti. Io, pieno di ferre, lo sito in voi, amami con me madre, prelegge di voi, Regina, solleva i miei dolori, oh misericordia. Con i nostri guazzoletti bianchi, salutiamo Maria. Sono regina di misericordia, madre dolcezza e speranza nostra. Ma crescendo, l'anima si prostra, in queste strade piena di dolori. Deolce a noi, avvocata nostra, preghi a occhi tuoi, misericordiosi, e non c'è la vita di più. Oh, regina Maria, là su nel cielo, postaci Gesù. Santa Maria Vincolo di Pace tra noi e il tuo Figlio Gesù, Acco Celeste, che lo sveglia di Dio muti in serena misericordia, Acco Incrollabile, che ci difendi dagli assalti dei nemici, donaci Vergine Benedetta di godere perennemente della tua protezione macchetta. Prega per noi Santa Maria dell'Anastolo. Preghiamo. Dio Onipotente Benigno, tu hai stabilito che nella Chiesa, abbiata sempre Vergine Maria, madre e tuo Figlio, sia arco della nuova alleanza. Fa dunque che noi siamo difesi dalla sua protezione materna e possiamo mantenere con te il nostro patto in eterno, per Cristo nostro Signore. Carissimi miei fratelli e pellegrini tutti, prima di invocare la benedizione di Dio, permettete, a nome della comunità, di ringraziare tutti quanti. Permetto di fare, di salutare il primo cittadino che rappresenta, come priore provinciale dei frati predicatori, e ringraziare la comunità dei frati che zella questo santuario, che lo custodisce, che lavora nel silenzio della quotidianità e anche a volte nel rumore della testa, ma sempre, ogni giorno, con quella fede quotidiana, con quell'amore quotidiano che dovrebbe caratterizzare tutti i nostri momenti, in modo particolare. Il nostro grazie abate al rettore di questo santuario, a Padre Alessio, per tutto il suo lavoro, quale con l'amore che ogni giorno mente, con la passione che mente, che Maria lo possa deve dire. Grazie, Padre Alessio. E credo, carissimi, che il pregale più bello, come i discepoli di Gesù ci possiamo fare, è quello di prometterci di pregare gli uni per gli altri, perché tutti abbiamo bisogno di sentirci sostenuti dalla preghiera, una preghiera che diventa semplicemente un dirci gli uni con gli altri, ti volgo bene. Questa deve essere la nostra fede, un bene quotidiano, vero, serio, che sa sorridere dei sacrifici, che sa sorridere anche sotto il peso della voce, perché così siamo noi discepoli del Signore, siamo quelli della gioia, quelli della speranza, quelli della risurrezione, altrimenti, con che cosa, nel cuore verremo qui e quindi Maria? Perché verremo qui? Soltanto gradentire a qualcosa di esteriore, con un cuore vuoto, sappiamo che non è così, non deve essere così, non può essere così. Ancora una volta, affidiamo la nostra vita, le nostre famiglie, i nostri cari, quelli che si affidano alla nostra preghiera, i giovani da una parte, gli anziani dall'altra, coloro che forse hanno anche perso la speranza nella vita, perché sentano ancora una volta, con lo sguardo di Maria, la carezza di Dio nella loro vita. e allora con questi sentimenti vogliamo invocare la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi, per intercessione della piattavergine Maria, vi benedica Dio, l'ipotente Padre, e Figlio, e Spirito Santo. e Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni, dobbiamo accelerare perché siamo tanti. Per favore, alziamoci. Grazie. Velocemente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in tanti, per favore. Al di me di chiudiamo il santuario. Per favore. Per favore, alziamoci. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti